Cari amici, purtroppo, come sapete, il 10 di aprile non potrò venire a Misano perché le condizioni non me lo consentono, siamo tutti reclusi per questa pandemia che sta mettendo alla prova non solo ciascuno di noi, ma direi tutta la nostra società e tutta la nostra civiltà addirittura e voi sapete che sono tanti anni che io vengo a Misano e rifletto proprio con voi su questa civiltà che sembra essere giunta ad un punto terminale, ad un punto critico, ad una resa dei conti che questa pandemia e quello che ne verrà certamente rende più evidente. Noi lo dicevamo, ma forse adesso quello che dicevamo, quello che abbiamo tante volte detto anche a Misano Adriatico, se riascoltato potrà sembrare forse più realistico di quanto uno potesse credere uno o dieci anni fa. Mi dispiace sia per Gustavo, ma avremo altre occasioni per incontrarci e anche per incontrare voi, ma mi dispiace in particolare perché le visioni profetiche di Hölderlin, sarei venuto a parlare di questo grande poeta, tragico poeta tedesco, le visioni profetiche di questo poeta, credo che proprio oggi ci possano aiutare ad orientarci in questa fase così dura di prove estreme. Perché? Perché Hölderlin percepì tra i primi, tra il 1700 e il 1800, che stavamo costruendo una civiltà che aveva certamente e ha caratteri evolutivi, progressivi, di sviluppo, la rivoluzione industriale stava esplodendo in Europa, però lui insieme a pochi altri, pensiamo a Leopardi, pensiamo a William Blake, pensiamo a Herder, loro intuirono subito che questo progresso tecnico-tecnologico portasse con sé anche un'ombra, cioè dei problemi che prima o poi avremmo dovuto affrontare. E non è un caso, a mio parere, che Hölderlin diventa così importante solo nel ventesimo secolo. Lui è un poeta dell'inizio del diciannovesimo secolo, ma diventa un poeta di rilevanza primaria durante la prima guerra mondiale, nell'edizione del 1914, non a caso, che fu poi l'edizione che lesse Heidegger, che è stato poi il tramite di questa lettura di Hölderlin in questa chiave così contemporanea. Perché? Perché in fondo è il ventesimo secolo, interamente l'inizio di questa resa dei conti, che poi a oggi, nel ventunesimo, e con questa incredibile pandemia, mi sembra che continui, no? Dobbiamo fare i conti con gli effetti collaterali non desiderati di un'idea di sviluppo, no? Pensate ai cambiamenti climatici, all'inquinamento dell'ambiente e a questa pandemia che è uno degli effetti anche della devastazione dell'ambiente. Perché poi gli scienziati ci dicono che questi virus animali passano all'uomo perché noi invadiamo, no? con le nostre intenzioni predatorie, molti ecosistemi, producendo poi l'espansione anche di virus che, diciamo, se ne sarebbero stati tanto buoni in qualche pipistrello o in qualche altro animale che noi siamo andati a disturbare pesantemente, no? nel suo ambiente. Ma la cosa fondamentale di Hölderlin, per cui io sarei venuto a parlare tanto volentieri di Hölderlin, è che lui non si limita a intravedere, diciamo, con almeno un secolo d'anticipo, i problemi apocalittici e catastrofici della società industriale e tecnologica che stava nascendo, ma lui intravede addirittura l'esito evolutivo della notte del mondo. Lui dice, sì, siamo nella notte del mondo, siamo nel tempo della carenza, della miseria, il dürftiger Zeit, ma proprio adesso, proprio in queste difficoltà, in questi travagli, sta nascendo già il nuovo giorno, jetzt aber tags, adesso, proprio adesso fa giorno, sta facendo giorno. Ed è per questo che io sarei venuto e, chissà, magari verrò a parlarvi di Hölderlin. Io accettai questa ipotesi di una conferenza su Hölderlin dopo almeno dieci anni nei quali Gustavo continuava a chiedermi di fare una serata su Hölderlin. ma io ho sempre rinviato, ho rinviato per la difficoltà e l'altezza e la profondità delle visioni di questo poeta. In realtà quest'anno avevo accettato solo perché si era creata una coincidenza particolare, cioè io sarei dovuto venire a parlare di Hölderlin il venerdì santo, la sera del venerdì santo, e cioè avrei potuto spiegare che questa visione di un giorno, di una novità di vita che scaturisce dall'abisso della notte e della morte, è proprio quel mistero pasquale che nel venerdì santo si sarebbe potuto percepire nel modo più forte. Questo non è stato possibile quest'anno, ma ho desiderato trasmettervi comunque queste parole affinché possiamo vivere comunque credenti o non credenti. Questa prova estrema, che è una prova estrema, è una prova di morte. Abbiamo già più di diecimila morti in Italia per il coronavirus. È una prova quaresimale estrema, perché siamo tutti chiusi in casa, limitati nelle nostre libertà, nel digiuno di tante cose, perfino dell'abbraccio, perfino del darci la mano, delle relazioni sociali, in un digiuno estremo. Ecco, questo tempo è pasquale, e cioè un luogo che ci fa passare, pasqua vuol dire passaggio, verso una novità di vita. Certo questo dipende da ognuno di noi, non è un automatismo. rinascere è, come dire, un atto volontario, libero, una scelta. Vi auguro, mi auguro, auguriamoci tutti che questa pandemia sia veramente un segno pasquale, come vedeva Hölderlin, come hanno sempre visto gli uomini più grandi della storia. Auguri!